Noi abbiamo presentato liste coraggiose, prima si è nominato Mimmo Lucano, Mimmo Lucano hanno cercato di ammazzarlo in questo paese, perché era pericolosissimo. Perché era pericoloso? Perché aveva dimostrato che se depuri dalla narrazione tossica, una materia complessa come quella dei migranti, o può anche funzionare. Notizia delle notizie, può anche funzionare. E se funziona, poi gli imprenditori della paura non sanno più dove andare a pescare. Ilaria Salis è una candidatura coraggiosa, intanto perché è una candidatura che dimostra che la politica può essere utile, utile, può cambiare le cose. Intanto può liberare il corpo di una donna antifascista detenuta in un paese non democratico come l'Ungheria, in carcerazione preventiva. E poi perché parla a tutta l'Europa, all'Europa che vogliamo. Noi vogliamo un'Europa in cui i diritti delle persone, delle minoranze, i diritti di tutti e tutte siano interi. Anche qui o l'Europa è questa o l'Europa semplicemente non sarà. Chiuderemo con una grande manifestazione e poi prenderemo un bel risultato. Giustizia sociale, giustizia climatica e pace. Andate a votare l'Alleanza Verdi e Sinistra per portare nuove generazioni per sostenere i nostri candidati da Ilaria Salis, Ignazio Marino, Leo Luca Orlando, che si collegherà, e questa è una notizia, si collegherà da Torino alla chiusura del nostro comizio di chiusura, Leo Luca Orlando, la nostra ambientalista Cristina Guarda del Nord-Est, tanti e tantissimi giovanissimi.